Buonasera a tutti, a casa di Toni Maria, i figli di Bidello facciamo l'opera santa come facevano ai tempi antichi, quando Bidello facevano il diavolo. Come la bambina poi si ricorda. Proprio si ricorda come facevano il padre Bidello. Pronti, via! Eccomi conto, e frema la terra, e smametto il cielo, e Pluto sono io. Spirito dell'imverno, uscite di Napoli! Però, ancora con voi non mi ricordo! Bravo Toni, un applauso a Toni!